In collaborazione con sportoutdoorviaggi.it Marco, Hosis Technology Cari amici, benvenuti al consueto appuntamento con sportoutdoor.tv la multipiattaforma tv web dedicata allo sport e al turismo in questa puntata parliamo di moto d'acqua Nella fantastica due giorni qui di Civitavecchia in occasione della fiera Vivere il Mare quinta e ultima prova del campionato italiano moto d'acqua Runa Botta F4 col numero 2 Davide Pontecorvo col numero 5 Michele Cadei col numero 7 Luca Vecchiorri col numero 9 Marco Antonio Oliveiri col numero 21 Paolo Paesani col numero 22 da San Marino Walter Nanni col numero 70 Roberto Mariani e col numero 98 Antonio Pontecorvo col numero 20 Paolo Ski Open Ski, giovanile 15-18, 8 minuti più un giro per questa categoria. Andiamo a leggere l'elenco degli iscritti. Lino Brusadin. 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 Runa Boutta F4 Femminile. Runabout F4 Novis andiamo a leggere l'elenco degli iscritti per la Runabout F4 femminile col numero 9 Stella De Luca col numero 15 Arianna Urlo col numero 17 Carolina Vernata col numero 28 Ilaria Vanni col numero 46 Naomi Benini col numero 86 Michela Tiozzo per la Novis col numero 3 Andrea Nardella col numero 27 Fulvio Grimaldi col numero 67 Alberto Santini e con il numero 72 Davide Santini con il numero 35 Alcatraz e con il numero 35 al linkello e con il numero 35 con il numero 36 con il numero 21 e con il numero 35 Grazie a tutti. Andiamo a vedere l'elenco degli iscritti per la Roundabout F2. Grazie a tutti. 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 con numero 15 Ludovica Urlo con numero 18 Ayrton Cece con numero 19 Ciro Taranto con numero 20 Elisa Tiberi con numero 23 Vittoria D'Oliveira con numero 24 Alessio Ruoso con numero 27 Andrea Fagiolo con numero 29 Adele Tomassini con numero 32 Arianna Fagiolo con numero 40 Cristian Esposito con numero 46 Francesco Bassenghi con numero 47 Aurora Di Domenico con numero 91 Michael Di Domenico con numero 97 Daniele Ascione con numero 98 Domenico Cagliazza con numero 99 Gabriele Dragone con numero 10 Fulvio Capasso Junior adesso parliamo della categoria Runabout Spark giovanile 15-18 andiamo a leggere l'elecco degli iscritti con numero 4 Giovanni Fiore con numero 5 Marco Boninelli Cadei con numero 7 Gaia Certelli con numero 9 Stella De Luca con numero 10 Mauro Capasso con numero 11 Antonio D'Angelo con numero 15 Arianna Urlo con numero 16 Carmine Coscimano con numero 18 Antonio Retta con numero 23 Francesco Mancini con numero 26 Nino Filippo Tombini con numero 40 Valerio Dente con numero 47 Siria De Luca con numero 77 Davide Santini con numero 97 Alessandro De Rosa e con numero 98 Emanuele Ponte Corvo con numero 48 Emanuele Ponte Corvo con numero 33 Emanuele Ponte Corvo Grazie a tutti. 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 Con il numero 81 Davide Di Maio e con il numero 9 Nicolas Musico. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.